Il gioco nasce dalla necessità di educare i ragazzi, ma non solo, quindi di coinvolgere anche i genitori, i docenti e gli adulti di riferimento all'educazione digitale. Il gioco Digital Challenge nasce proprio da una scuola e quindi mi sono inventato un gioco per attirare l'attenzione principalmente dei ragazzi e delle ragazze. È un gioco quiz dove ci sono tre risposte, quella corretta o non evidenziata appunto per creare la curiosità e lo stimolo per andare a cercare poi la risposta giusta anche su internet. All'interno del gioco ci sono degli imprevisti e delle challenge tra squadre, quindi per creare movimento appunto al gioco stesso ed è acquistabile online ovviamente ed è rivolta a tutte le età, quindi si può giocare da due giocatori in su, si può giocare in classe, si può giocare in famiglia, quindi in casa, all'aperto e portatile. Quindi è stato fatto in una confezione molto pratica per essere trasportata e quindi vuole essere un gioco di unione tra diverse generazioni. Diciamo che il contesto scuola è stato già provato, è stato provato in presenza, quindi prima del periodo del lockdown, quindi del coronavirus e poi è stato testato in DAD e devo dire che insomma ha funzionato perché attraverso i giochi i bambini, così come gli adulti, poi in fin dei conti apprendono meglio e più velocemente. Adesso la sfida più grande è sempre quella di fare entrare il gioco all'interno delle case, quindi con i genitori e magari perché no sperare che i genitori e i figli si possano sedere sul tavolo diciamo a giocare con Digital Challenge.